Bruno Editore presenta Interpretare i sogni Come decodificare il significato dei sogni e imparare a dormire bene Di Michele Pagos Introduzione Noi tutti durante la notte fuggiamo dalla realtà quotidiana E siamo proiettati in una dimensione onirica Senza spazio e senza tempo Eppure i sogni, con i loro messaggi e i loro simboli Ci trasmettono emozioni, idee, intuizioni E ci fanno divenire in un viaggio tra passato e futuro Ci sono diversi tipi di sogni Quelli che facciamo a occhi aperti Le nostre aspirazioni, i nostri desideri profondi Il nostro sogno nel cassetto E gli altri messaggi Essi sono altrettanto profondi e misteriosi Sono i sincronismi o le coincidenze I segni del destino Come qualcuno ama definirli La natura e il mondo intorno a noi Continuamente ci sfiorano con queste voci sottili Queste apparizioni inspiegabili Che ci colpiscono e ci catturano Che cosa possiamo leggere in questo mondo? Cosa ci dice della nostra identità? In che modo i sogni possono trasformarsi in mete perfettibili e raggiungibili? Noi ce ne accorgiamo Tutte queste manifestazioni provengono dall'inconscio E dal mondo quasi impercettibile che ci avvolge Riconoscerle, farle proprie Significa vivere la pienezza della vita Vedere figura 1 a pagina 6 dell'ebook